In tanti mi avete chiesto di parlare del caso Apple FBI, lo voglio dire molto sinceramente, vi ringrazio per la stima che avete nei miei confronti, ma non conosco l'argomento, non sono competente, lo so non funziona così su internet, non si sta andando in questa direzione, tutti parlano di tutto, basta dire che si fa il divulgatore, il comunicatore o cose di questo tipo e sotto questo cappello ci si giustifica di tutto, io non vi mentirò, a me questo non interessa, non mi interessa delle visualizzazioni, non mi interessa della popolarità di tutte queste cose, vedete chi parla di tutto parla di niente e creare un progetto editoriale come Fast Forward per poi riempirlo di banalità credo che non interessi a nessuno, anzi su argomenti specifici mi piacerebbe coinvolgere altre persone della GTDA e anche altre persone esterne perché so che hanno tanto da dare e condividere, se volete saperne di più sulla storia di Apple ed FBI vi consiglio di leggere l'articolo di Maurizio Martinoli dove inserisce un elenco schematico di quello che è successo, quanto mi piacciono le cose che vanno dritte al sodo e poi parla di com'è andata, della vera richiesta dell'FBI, del pericolo della stessa richiesta e del perché l'FBI non ha usato i propri hacker e perché non lo ha fatto? In giro ho letto un sacco di cose superficiali e banali, voglio quindi suggerire due risorse sulla criptografia questo perché preferisco cogliere l'occasione per approfondire meglio l'argomento e invitare voi a fare lo stesso di sicuro un internet migliore passa attraverso una maggiore consapevolezza, non tramite discorsi basati sul nulla che somigliano un po' al gossip la prima risorsa che vi segnalo è un video di code.org, è molto semplice e dura poco più di 6 minuti la seconda è un libro, 9 algoritmi che hanno cambiato il futuro, di John McCormick il capitolo 4 è proprio dedicato alla criptografia a chiave pubblica il linguaggio è semplice e inoltre usa molti esempi che facilitano la comprensione mi piace molto il suo modo di comunicare, ve lo leggerei anche il capitolo 4, purtroppo però non c'è tempo però in descrizione vi trovate un link a Google Libri dove c'è sia l'indice sia l'anteprima del capitolo in questione bentornati su Fast Forward, la rubrica dove ogni martedì alle ore 12 parliamo di argomenti che conosciamo come internet e web marketing, una settimana prima la notizia che ha sconvolto un po' tutti questa settimana è che Google ha rimosso gli annunci AdWords dalla colonna di destra nei risultati di ricerca desktop è una notizia che ha una portata storica, sulla destra rimangono Google Shopping, il Knowledge Graph e altri risultati che provengono dal mondo Google in posizione premium troveremo spesso 4 annunci e quando c'è anche la local search di mezzo è un bel casino negli anni passati ci sono stati vari test in questa direzione di sicuro il costo per click aumenterà, quindi cambieranno le aste e questo probabilmente andrà a favore di chi ha più budget da investire che stiano provando a fidelizzare questi tagliando il tanto rumore generato dai piccoli inserzionisti? io non credo che sia una mossa per uniformare risultati mobile e desktop anche perché sulla destra rimangono altre tipologie di risultati penso sinceramente che i loro test abbiano evidenziato introiti maggiori l'unica cosa sicura è che questa novità necessita mesi per cercare di essere assorbita dal mercato e da tutti gli operatori del settore e quindi dovremo aspettare un po' per avere i dati e per quanto riguarda il mondo della pubblicità oltre a Google abbiamo notizie anche da Facebook secondo un'indiscrezione di TechCrunch potrebbero arrivare nei prossimi mesi gli annunci dentro Facebook Messenger la fonte della notizia non c'è quelli di TechCrunch dicono che l'informatore è un bene che resti anonimo vedremo comunque Zuckerberg aveva detto che non era sua intenzione monetizzare le conversazioni private non ci resta che aspettare qualche mese per scoprire la verità sarà invece questione di giorni la nuova interfaccia per le statistiche dei video di Facebook su segnalazione di Angelo Marolla scopro questa nuova grafica che mostra anche nuovi dati tra i quali totale di minuti guardati nel video totale delle visualizzazioni del video che sono durate almeno 10 secondi le visualizzazioni con suono attivato o disattivato finalmente questa è veramente una bella notizia di sicuro sarà più facile rendersi conto di quanto Facebook gonfia le visualizzazioni magari quando la grafica sarà vista da tutti aggiorneremo l'indagine che abbiamo fatto l'anno scorso per quanto riguarda i video al Mobile World Congress Facebook tramite Zuckerberg fa sapere che faranno una partnership con Samsung per la realtà virtuale e sì perché Samsung non solo ha annunciato alla conferenza i due telefoni che hanno al top della loro gamma ma anche Gear 360 per registrare facilmente i video a 360 gradi e Facebook gongola perché dare la possibilità a tutti di registrare questa tipologia di video è una grossa opportunità di soldi opportunità monetaria sì noi non lo useremo mai pochissime volte ma le nuove generazioni si sa un'altra bella notizia per Facebook è che dal 12 aprile saranno disponibili per tutti gli Instant Articles ovvero chiunque e non solo i grandi giornali potranno rendere i loro articoli fruibili direttamente su Facebook senza far lasciare la piattaforma alle persone l'esperienza di lettura è fantastica ed è velocissima la persona non attenerà quindi sul sito web ma resterà dentro Facebook e si sa Zuckerberg vuole tutto Instant Articles sfrutta l'HTML5 si possono mostrare oltre ai contenuti testuali anche quelli audio, video e foto non c'è bisogno di pubblicare l'articolo due volte sarà fatto tutto in automatico e cosa molto importante gli introiti resteranno al 100% al proprietario dell'articolo questa è una bella guerra alle news che Facebook ha già vinto sono sicuro che i primi dati di questa nuova implementazione saranno molto interessanti passando da Facebook a Twitter ci sono due novità molto importanti che vanno nella direzione giusta il customer service la prima novità riguarda la possibilità di inserire un link che permetta alla persona di inviare un messaggio privato al brand così è facile andare in conversazione privata per offrire un supporto migliore la seconda novità è la possibilità di lasciare un feedback sul servizio ricevuto con un punteggio che va da 1 a 10 le aziende poi potranno classificarli all'interno di due giudizi standard riconosciuti universalmente questo significa migliorare il servizio per quello che realmente serve ora però è arrivato il momento del rush finale con 5 ulteriori notizie che vogliamo segnalarvi alla posizione numero 5 troviamo Facebook che ha appena lanciato un nuovo sito per le realtà del mondo non profit io ci darei un'occhiata alla posizione numero 4 invece Twitter che facilita la condivisione delle gif animate offrendo tramite questo pulsante la selezione delle immagini animate da siti specializzati e alla posizione numero 3 Facebook Messenger che per Android offre la possibilità del multi account e sì perché quando sei a casa sul divano no c'è il tablet con la tua famiglia mica ci parli tu scrivi su Facebook gli lasci il commento e gli dici oh ti ho lasciato un commento guarda e ricommenta alla posizione numero 2 Google offre una fantastica opportunità ovvero quella di provare un'applicazione senza averla installata sul telefonino direttamente dai risultati di ricerca a novembre avevano testato questa possibilità solo per 9 applicazioni oggi invece è attiva per molte di più e alla posizione numero 1 un articolo di Search Engine Land dove si parla di alcune ottimizzazioni importanti da fare per le applicazioni al fine di migliorare la visibilità nei risultati di ricerca di Google e ovviamente Never Restore la risorsa della settimana invece è Autotrack di Google Analytics è davvero un ottimo aggiornamento che cambia il modo di implementare i tracciamenti avanzati di Google Analytics la domanda della settimana è di Psychedady dedicata ai canali di Telegram più o meno mi chiede se per la gestione tipo di un ristorante quando si segnalano eventi e altre iniziative di questo tipo Telegram può sostituire Facebook secondo me sono due ambienti totalmente differenti non è possibile sostituire uno con l'altro tuttavia non c'è una risposta univoca a questa domanda bisogna vedere cosa succede caso per caso e cercare di capire cosa utilizzano le persone che tornano frequentemente nel nostro ristorante una buona idea comunque è quella di offrire degli incentivi a chi si iscriva al canale Telegram poi è importante non esagerare con le comunicazioni commerciali e soprattutto cercare di creare un rapporto unico con le persone offrendo a loro delle informazioni che non troveranno da altre parti fammi sapere come va e con questo è tutto fatemi sapere cosa ne pensate di questa puntata con un bel commento lasciate un mi piace se vi è piaciuto e condividetela su Facebook mi raccomando per quelli che ancora non lo hanno fatto iscrivetevi al canale per non perdere la prossima puntata di Fast Forward ogni martedì alle ore 12 siamo su YouTube, su Facebook e su Telegram e il prossimo giovedì, questo che sta per arrivare ci sarà un video speciale non perdetevelo su Telegram troverete informazioni aggiuntive ci vediamo giovedì